Ma voi lo sapete che la Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, il cappello alla romana, viva viva la Befana! Quest'anno la Befana viene di notte e munita di Green Pass. A Ceglie del Campo, a Bari, l'appuntamento tanto atteso da bambini e bambine che hanno ricevuto dolci e sorprese all'interno del castello. L'iniziativa nell'ambito della programmazione di eventi in occasione delle festività natalizie, promossa dal Municipio 4 e curata insieme all'Associazione Nodis. Mascherine FFP2 lascia passare verde e ingressi contingentati per regalare, ancora una volta ai più piccoli, l'emozione dell'epifania. È un'iniziativa dedicata ai bambini aspettando la Befana. Abbiamo dovuto rimodulare l'evento che inizialmente era stato pensato in Piazza Santa Maria del Campo, ma non potendosi svolgere all'esterno. Non volevamo in ogni caso privare i bambini di questo momento importante, anche perché credo che l'attesa della Befana faccia parte dei ricordi dell'infanzia di ciascuno di noi. Quindi proprio per questo i bambini sono già pronti per far visita alla simpatica vecchietta che donerà loro una calza con dei dolci e delle caramelle. Avete fatto i buoni! Qua ci sono tante caramelle per voi! Forza venite! Vi aspetto! Forza venite!